1965, New York, assassinato Malcom X. 1972, Richard Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese. 1848, pubblicato Il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels. Commenta il Fatto del Giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. La lingua italiana come baluardo di democrazia nel periodo di internet e dei social. Oggi parleremo di questo.